Maia santa, frena, c'era, frena, c'era, ascolta, non ti può andare un pian di più pian, c'ho? Oh, Cotiago! È vietato parlare al conducente? Ah sì, allora ti senti adesso però, ah? E io parlo lo stesso e dico che il conducente è un gran moltone. Brava, ti ha ragione, un moltone pieno di problemi. Maia santa, guarda che frena... Scusi ma, giovane, scusa ma non sei colpa mia, ciò sei colpa di quello che guida. C'ho Alonso, vabbiamo da vincere il Gran Premio stamattina. Signora, haga poco da agnarsi, segui, e avesse sarà il passeggino come ti avevo visto mio. Oh, la santa con l'avanti questo passeggino ti va. Ascolta, bambin, spero che non ti gabbia amorosa perché è da essere una santa quella, un po' di pesante che ti sei, sa cosa che ti dico? Mia il passeggino te l'ho aperto quanto che voglio, va bene? E ti sa cosa che faccio? Alla cosa che faccio, non c'era, anche mi sento, va bene? Ecco, chapa il passeggino, va bene? Ti ha la CTV. Ma voi è la guerra, ma voi è che ho messo con me, non c'era il passeggino. No. Benissimo, io sono un bimbo. Maria santa, senti che fregata. Ma ti va via qua a testa? Ma ti va via qua a testa? Che pazzesco, non ho mai visto una roba del genere? Ma non c'è che c'ha più quei donne e quei vecchi, c'ha più idea con me, che ti ha dato un puglio sulla testa, che ti ha facciato da 40 centimetri, e ti fa guida gli occhiali. Benissimo, a questo punto mi siete tutti testimoni che sono impossibilitato a continuare serenamente il mio turno di lavoro. Noi ci salutiamo qui, arrivederci e buon proseguimento! Chai, chai, chai. Hai che già fermare, hai detto?